ciao cinefusi.it oggi vi parlo del film il canto del pavone scritto e diretto da sanjewa pushpakumara scusate ho dovuto leggere perché mi rimane abbastanza difficile pronunciare questo nome e il film il canto del pavone è stato scritto e diretto dallo stesso regista ed è distribuito dalla casa di distribuzione italiana pilgrim film insieme a sapuspa expression infatti si tratta di un film coprodotto tra due paesi italia e sri lanka il paese anche di origine di questo regista il film è stato presentato anche al trentacinquesimo festival di tokyo dove ha ricevuto un premio come appunto film artistico è stato riconosciuto appunto come film artistico si tratta di un film anche in parte autobiografico scritto appunto dallo stesso regista è un film molto bello e molto difficile e la sinossi è questa è la storia di un ragazzo appunto l'autobiografia del regista che ha perso entrambi i genitori e si occupa dei propri fratellini piccoli al meglio che può lavorando in un cantiere e infatti uno dei temi diciamo che vengono toccati dal film è anche questa diciamo questo mercato cinese in espansione all'interno dello sri lanka e come e quei dei risvolti socio economici sulla società appunto dello sri lanka dicevo questo ragazzo lavora in un cantiere ma una delle sue delle sue sorelle è malata una grave malattia cardiaca e per questo lui si ritrova a dover a lavorare per delle persone sbagliate si ritrova a lavorare per persone che operano un traffico di neonati quindi questo è un film che si in in qualche modo è critico della società è critico di certi modi di fare però non è un film giudicante inoltre io ho trovato molto interessante un duplice aspetto le vite di delle persone dei protagonisti del film sono tempestose sono sconvolte da eventi gravissimi difficili sono vite appunto difficili tragiche quasi e questo diciamo viene messo in scena come come il contrapunto di queste vite così difficili e di questa di queste tragedie umane invece il film è completamente rigoroso nella composizione delle immagini vengono usate quasi unicamente 22 tipi di ripresa cioè la ripresa l'inquadratura fissa e alcuni carrelli in avanti c'è solo un momento all'interno del film in cui abbiamo una macchina a mano perché vuole rappresentare un momento particolare che non vi rivelo perché vedendo il film poi sarà importante questo momento di rottura diciamo dalla da questa forte da questo forte rigore da questa grande simmetria anche delle immagini che si ritrova in tutto quanto il film quindi diciamo non ve lo voglio svelare però è proprio questo grande rigore questa fortissima attenzione alla composizione anche del dei corpi nello spazio proprio nella spazialità dell'inquadratura c'è una grande attenzione per esempio all'uso dei colori c'è il giallo molto forte il rosso e il bianco e tutto questo ha un forte significato un forte significato anche emotivo che viene trasmesso appunto da queste immagini che possono sembrare quasi fredde o comunque molto molto ferme invece raccontano proprio questa grande emotività soprattutto anche grazie all'interpretazione dei protagonisti in particolare il protagonista maschile è veramente veramente bravo nel nel cambiare espressione nel farci capire semplicemente dai propri sguardi tutte le emozioni che si trovano dentro di lui e dicevo appunto anche l'uso del colore è molto importante e ci trasmette queste sensazioni così come l'assenza quasi totale della musica in questo film non si può dire che non ci sia quasi colonna sonora non c'è quasi neanche il rumore di fondo della vita avviene solo in alcune sequenze che viene introdotta la musica per sottolineare alcune cose particolari quindi devo dire che l'operazione del regista che ha raccontato in una maniera anche fortemente distaccata appunto senza dare giudizi ma dandoci la possibilità attraverso le immagini attraverso questo racconto di partecipare alla difficoltà e alla tragedia della sua vita e questo film mi è piaciuto molto mi ha colpito molto e spero che anche per voi la visione possa trasmettere le stesse emozioni che ha trasmesso a me se vi è piaciuto questo video mettete mi piace alla pagina facebook o la pagina instagram di cinefusi.it o al video su youtube o meglio ancora iscrivetevi al canale youtube di cinefusi.it grazie buona serata e buona visione a tutti